Eh. Buongiorno. No, guardate un po' il mio giardino come è diventato. Guardate come mi sono svegliata. Ma è pazzesco. Irriconoscibile. Ci saranno 40 centimetri di neve. E adesso devo scrollare tutto qua, perché altrimenti si spacca la sieve. Vedete? Oddio. Che disastro. Eh? Un disastro vero. Oh. Mamma mia. Cascato di nero abbondante. Va bene. Continuo il mio lavoro. Ciao, a più tardi. Ciao, a più tardi.